Perché un corso sulle malattie neurocutanee? Perché le malattie neurocutanee coinvolgono un numero considerevole di persone, bambini e adulti, nonostante se ne parli molto poco. Perché le recenti acquisizioni scientifiche hanno consentito di definire nuove patologie neurocutanee e di introdurre nuove terapie farmacologiche che stanno veramente modificando in modo significativo la vita dei pazienti. E perché è necessario un confronto multidisciplinare tra esperti di estrazione diversa dal momento che sono malattie a prevalente ma non esclusivo interessamento neurologico e cutaneo? Martino? È per questo motivo quindi che noi abbiamo cercato di prendere un gruppo di persone che in Italia, tra i relatori e anche tra i moderatori, perché saranno sessioni interattive, che si occupano quasi esclusivamente di queste malattie nei loro rispettivi centri italiani. Viene coperto tutto il territorio nazionale e non solo ci saranno gli esperti classici che sono ovviamente per i bambini pediatri, neuropsichiatri infantili, ma anche i neurologi, i genetisti e poi i super specialisti, i chirurghi. Ecco loro che in questo momento stanno applicando i protocolli terapeutici. Abbiamo quindi unito tutte queste persone in molte sezioni con presentazioni molto pratiche che dovrebbero permettere nell'interazione anche con le famiglie e con i familiari una maggiore riuscita di queste giornate.